Uno sguardo di troppo ad una ragazza, forse un complimento. Sarebbe questo il retroscena dell'accoltellamento di un uomo di 38 anni trovato nella notte tra sabato e domenica riverso in strada Sansepolcro conferite da Taglio. Per l'aggressione già finito in manetto un uomo fidanzato della giovane. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri i due avrebbero trascorso assieme la serata per festeggiare proprio il compleanno della vittima, poi la lite sempre più accesa sino al fendente. L'uomo è stato ritrovato in via 20 settembre, qui è stato raggiunto dai soccorritori dell'emergenza urgenza pochi minuti prima della mezzanotte. È stato trasferito alle scotte di Siena in codice 2 con l'elicottero Pegaso. Resta in prognosi riservata ancora in pericolo di vita a causa delle due coltellate che l'hanno colpito all'improvviso, un al torace vicino al cuore l'altra alla milza. È stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita. Resta invece in carcere l'aggressore in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Al momento l'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio.